si ringraziano gli sponsor ufficiali della rassegna lo sport un sorriso per la vita o tre barriere frontiere bocacica top zero pigenia coni e design ceramiche amici sportivi un cordiale ben trovati e siamo sempre nella bellissima terrazza del bocacica al lito di latina e ci siamo divertiti quest'estate perché noi quando parliamo di sport ci divertiamo abbiamo avuto l'onore di poter di poterlo fare con tanti campioni abbiamo grazie alla collaborazione con il coni col panatron club con un gruppo di sponsor abbiamo avuto l'onore insomma di poter omaggiare della nostra serata televisiva a tanti campioni di sport non li elenco perché comunque è girato moltissimo anche sui social quindi sapete un po tutto e poi avete visto anche le puntate televisive che entro brevissimo saranno riproposte anche sul nella piattaforma di passione sport.tv la serata di oggi e poi all'interno della rassegna abbiamo dedicato alcune alcune momenti a carriere particolari tra queste carriere particolari perché anche questa ha un qualcosa un sapore particolare quella di giancarlo sibilla sibilia mister dei due delle due terre perché mister della penisola italiana e mister della sardegna e diciamo che ringrazio per la presenza insieme a me abbiamo due amici il inizio con a sinistra giuseppe pietrocini della figc grazie per la presenza giuseppe grazie buonasera a tutti che oltre a essere un esponente del panadon club e anche un dirigente della figc ma soprattutto si interessa di formazione per i giovani allenatori soprattutto delle scuole calcio delle scuole calcio ha fatto un libro lo abbiamo già presentato in un'altra occasione ma io tengo a riproporlo small position games e le posizioni insomma dei piccolini ha avuto delle bellissime idee che ha riportato sul libro tra l'altro edito da sport italia da un collega illustre ricordami il direttore poi poi lo ricordiamo che io ho avuto modo di conoscere a udine perché è molto legato all'udinese calcio e poi fabio marcucci crescidiello bravo e poi fabio marcucci grazie fabio per la presenza puoi usare il microfono che ha giancarlo buonasera buonasera a tutti oltre a essere un amico di sempre fabio è una persona molto vicina al mondo della psicologia perché ha fatto formazione e grazie alla sua cultura di della programmazione neurolinguistica della pnl lo ha fatto per ha fatto il coach per politici ha fatto il coach per direttori di aziende e oggi l'ho voluto ospite qui con noi anche intanto per ufficializzare che farà parte quest'anno del team di passione sport e apriremo quindi delle finestre sicuramente interessanti al mondo della parte cognitiva della psicologia e poi perché vogliamo sapere visto che parleremo di giovani e il calcio dato che giancarlo ha allenato cinque generazioni di ragazzi sognatori di diventare campioni di sport perché qualcuno è riuscito qualcuno non è riuscito altri lo hanno fatto diventare un motto di vita il discorso della cultura dello sport è comunque un argomento sicuramente scottante importantissimo e attualissimo per cui vorremmo anche un tuo parere in proposito agli argomenti che si sviluppano per cui se un battitore libero qualora tu mi facessi un piccolo segno puoi intervenire allora faccio subito il piccolo segno nel senso che diciamo le mie capacità prestate alla politica sono sempre state a pagamento e mai gratuite proprio perché non mi sono mai schierato in tal senso anche perché quando l'ho prestata hanno vinto quindi insomma e noi teniamo a precisare visto che mi mandi un due cose una che siamo in prevenzione covid tutti i vaccinati cerchiamo di mantenere la sanificazione al massimo le distanze quelle necessarie e due che comunque una rassegna non vincolata alla politica ma ai colori dello sport assolutamente sì e come nell'esempio dei vaccini che stai dicendo visto sono un battitore libero il punto è stato proprio un errore di comunicazione perché si fa il vaccino per non finire in terapia intensiva e non per non contagiare o non contagiarsi vabbè bene altro messaggio importante Giancarlo Sibiglia dicevamo cinque generazioni di giovani allenati tanti ragazzi che poi sono finiti a coronare il sogno in Serie A hai allenato però c'è ci sono due cose rimangono della tua storia il legame con i nerazzurri della Tina perché sei stato diciamo uno tra gli allenatori storici se non colui che ha lasciato definitivamente il segno a Latina e in terra sarda con la Torres dove insieme a tanti ragazzi che hai incontrato da cui anche Mazzarri hai lasciato il cuore sì in Latina va bene sono nativo di Latina Latina mi ha dato tanto penso che io ho dato molto meno di quello che mi ha dato Latina mi ha fatto diventare allenatore di calcio perché allenavo i ragazzi e non ci credevo proprio di fare l'allenatore di calcio a livelli professionisti in Sardegna non solo la Torres che la si è stata otto mesi nove mesi andai lì a ottobre poi a fine anno l'amore della Tina mi ha riportato diciamo in città però ho fatto cinque anni a Billacitro due anni a Calangianus poi a Te Sassari poi ho fatto a Nuoro belle piazze calde sì tutte piazze calde a me piace avere lo stadio lo stadio pieno lo stadio che mi dà l'adrenalina perché non c'è l'ho l'unica cosa che mi è mancata è quando ho smesso di fare l'allenatore e tu sai il perché non ho smesso per per condizioni fisiche perché ho avuto quella brutta come la chiamano la bestia l'ho combattuta e chiudo qua perché non posso dire perché dei colleghi magari hanno quando la combattono dicono ho vinto non vinci mai contro quella quella bestia lì però ho dovuto smettere l'unica cosa che mi è mancata è mancato lo stadio perché poi passando a fare il direttore tecnico dei settori giovanili l'erba la toccavo e non era quella la mancanza la mancanza era era dello stadio e la domenica la partita della domenica perché si lavora in funzione dell'obiettivo della domenica 830 panchine di cui 363 fatte a Latina e tanti momenti in Razzulli tenendo presente che poi ripartiamo anche dai primissimi calci perché tra i primi calci suoi ci sono due persone che poi hanno lasciato il segno nella serie italiana che sono Bruno Conti e Vincenzo D'Amico poi però questo parliamo di due immagini della storia pontina due tre immagini ce ne avrai tantissime ma a Latina Calcio parli sempre no la prima vabbè prima è stato il Costa Latina il Costa Latina dove dopo ne parliamo dove i ragazzi andavano all'orario e se giocava c'era bisogno di fare un po' di allenamento ma loro siccome giocavano lì al campo dello stadio dal campo del Costa dalle due alle otto di sera senza fermarsi mai andavano solo magari quando c'era la domenica la mattina andavano a mangiare e poi ritornavano era difficile pure portarli a fare allenamento poi ho avuto la fortuna di avere tre quattro giocatori in quella squadra che hanno fatto una carriera chi a livello di campione del mondo chi a livello di potenziale campione del mondo e altri che hanno giocato in campi di serie B come tu ma campi di serie C poi l'immagine della Latina entrai a parte della Latina al settore giovanile quando mi sembra c'eri anche te no? ho avuto, sì erano i primi anni, il primo anno che eri entrato c'erano pochi allenatori, ci diventavamo queste cinque o sei squadre io allenavo l'allievi nazionale mi sembra e i giovanissimi un altro che non mi ricordo, Guarniero c'era, mi pare che faceva la Beretti delle cose così, si faceva tutto e non si faceva niente perché noi venivamo da generazioni diverse quello che potevamo dare ai ragazzi era l'educazione in campo, l'aggressività in campo senza mancare di rispetto agli abbezzati, tutte queste cose che poi mano a mano ne sono uscite altre e allora all'allenamento erano più abituati a perfezionare il calciatore che il risultato della domenica anche se io ho stato uno che ho voluto sempre vincere, ero insomma un tipo così adesso queste cose sono, sembra che queste scuole queste cose sembrano che ma il perfezionamento del calciatore non esiste più adesso noi vorremmo poi organizzare per ottobre un bel appuntamento su questo argomento perché poi torniamo sul filo conduttore di oggi che è la tua carriera tutto quello che sei riuscito a conquistare di bello lottando perché insomma hai allenato in piazze difficilissime quindi poi ci racconterei anche qualche aneddoto diciamo è un argomento stra difficile quello dei ragazzi di oggi perché lui parlava prima di Michael Koss collegato all'oratorio non è più facile poter vedere queste immagini no assurdamente, allora proprio quello che manca al calcio di base diciamo nel nostro, nella nostra epoca è proprio il calcio di strada o il calcio di oratorio dico questo perché poi ha determinato come dire un buco enorme vi faccio un esempio perché poi non ci si è resi conto del buco della mancanza degli ultimi ragazzi che hanno giocato per strada vi faccio un esempio, Mondiali 2006 loro erano gli ultimi ragazzi che avevano giocato per strada da lì in poi c'è stato un buco questo buco non è stato colmato dai varienti interessati perché si pensava che comunque il calcio fosse sempre quello di una volta in realtà il calcio stava cambiando stava cambiando nelle varie federazioni europee noi all'interno dell'SGS sapevamo che in Belgio stavano facendo un determinato lavoro in Germania facevano un determinato lavoro terminato lavoro lavoravano sui centri federali e lavoravano sullo sviluppo dell'attività di base che doveva andare a recuperare i valori della strada in Italia si pensava che il calcio fosse sempre quello di prima si è andate avanti per anni fino a quando adesso in Italia finalmente abbiamo centri federali abbiamo recuperato il valore del calcio di strada all'interno tra virgolette all'interno delle varie strutture è ovvio che manca sempre perché quello era un calcio veramente diverso per quale motivo? perché nei vicoli per esempio faccio un esempio i muri c'erano tutte quelle caratteristiche esatto c'erano tutte quelle caratteristiche imprevedibili cioè fisse ma imprevedibili determinavano un'imprevedibilità che diglielo che quando c'è un muro da utilizzarlo si no che determinava determinava quella imprevedibilità che era in realtà lo sviluppo e la la completezza di una capacità coordinativa lo si sapeva allora lo si sa lo si sa adesso ecco questo è poche parole vedi i muri nelle scuole calcio vedi i muri fermi lì e non utilizzati che poi fondamentalmente a me succede non riesco a capire il motivo poi di questo mancato utilizzo dicevi Fabio? allora volevo volevo dire una cosa in merito a due frasi che mi hanno colpito detti da gli altri due ospiti ossia la parola perfezionamento del calciatore e nel 2006 è stata l'ultima generazione che giocavano i muri e il risvolto che stavo dato è stato un risvolto tecnico cioè il muro era imprevedibile insomma il muro all'interno di una di una location voglio dire non il muro dello stadio sì sì no chiaro ho capito benissimo allora volevo fare una domanda di cui sono veramente curioso delle rispettive risposte anticipandolo da una piccola premessa allora l'essere umano può essere assimilato a un pianoforte noi sappiamo che il pianoforte ha dei tasti a cui corrispondono delle note e sono nello stesso ordine do re mi fa sol la si do bene l'essere umano è come un pianoforte con una piccola differenza che ognuno di noi il do il re il ma il sol eccetera eccetera non ce l'ha in ordine ma ce l'abbiamo sparsi l'abilità è riuscire a far suonare nella stessa maniera soggetti diversi che hanno tasti diversi allora quando io sento parlare di perfezionamento del giocatore credo non so ai livelli altissimi parliamo serie A e avanti ma quanto viene data importanza all'aspetto che prima parlavamo prima di andare in ordine trasmissione gli allenatori sono aggressivi ora eccetera ci sono dei ragazzi che rispondono positivamente a una modalità aggressiva chiamiamola energica ok altri invece che rispondono meno cioè io quando sento parlare degli allenatori e so quanto guadagno dico porca miseria quanto guadagnano saranno bravissimi come tecnica ma sentendoli parlare a livello di comunicazione sono meno di zero allora dico quanto perfezionamento quando si parla del calciatore e dell'allenatore e della squadra è dato anche all'aspetto comunicazionale cioè un allenatore è bravo soltanto perché sa le tecniche o anche perché sa tirare fuori tra virgolette poi faccio la domanda per la parte tua per questa era per la frase sua poi chi risponde risponde e poi secondo me l'aspetto importante che hai detto i ragazzi del muretto oltre al muretto come metafora eccetera se invece c'è un aspetto importante il muretto sia giocare per strada era un gioco che tirava fuori delle emozioni adesso per giocare a pallone è un sport in cui a volte il bambino inizia a giocare a pallone sulla sabbia col papà poi va a sport e c'è l'allenatore che in poco tempo gli fa passare da un bel gioco a una rottura a una rottura di scatola io però la mia provocazione era estremizzare cioè nel senso mi capita di vedere anche posti cioè se io fossi io posso essere testimone lui ha avuto e ha doti naturali per questo non parte da una formazione costruita ho visto trattare giocatori con dolcezza con attenzione ho visto massacrare giocatori no ma io stavo dicendo che la mia forza forse in quegli anni è stato proprio questo saper capire saper capire i giocatori da che parte venivano quello che hanno fatto le famiglie specialmente sui ragazzi poi me lo sono portato anche con quelli grandi con quelli grandi perché sono più piccoli diventano più piccoli dei piccolini che stanno lì perché il giocatore diciamo la verità è biziato in tante cose lo vizia la moglie perché fa una vita buona lo viziano i tifosi perché è unito lo viziano mi ricordo stare attento pure a questo a come si comportavano nella gestione anche delle situazioni personali a Sassari io sono arrivato a Sassari che era una delle squadre più forti che c'era in quel momento in Serie C arrivai a Sassari trovai la squadra con un punto dopo sei giornate e io mi domandavo sono venuto la rimolta che uscivo da Latina io perché l'ho allenato sempre a Latina ora l'impatto com'è tutte queste domande la sera prima di dormire non avevo dormito tutte queste cose poi ho detto vabbè ora vediamo che mi invento lì per lì ho preso il giornale andai lì e mi dice la classifica la rovescia siamo arrivati in classifica perché mi hanno chiamato io ho detto il giornale erano ultimi a un punto e c'era Mazzarri la prima riunione lì che è stata fatta avevo Mazzarri Pani fra gli A tutta gente che l'anno prima aveva vinto il campionato a Cagliari dalla Serie B era andata in Serie A e loro sono scesi giù la Torres vedevi pure Mazzarri che l'avevo visto tre mesi prima dire al calcio di rigore a Cileale per portare la Cileale in Serie B e mi dava un po' io ho cominciato a fare l'allenatore ero l'allenatore più giovane d'Italia a 28 anni in C1 e allora mi trovavo pure io un po' da vedere certi personaggi così che magari avevo visto in televisione però cercavo di capire quello che era magari uscivo una sera con Mazzarri una sera con Pani un'altra sera con altre persone quanti ragazzi finché poi c'è stata la cosa finale e che io misi fuori Mazzarri dalla squadra di titolari perché ho dovuto fare questo per far capire agli altri non avevamo dubbi col carattere di Mazzarri no anche perché no perché Mazzarri era stato operato a Crociata era quattro mesi e lui aveva un problema che il presidente della torre se dava le ville era appartamenti appartamenti più i soldi per pagare meno siccome aveva bloccati un pochettino e lui aveva dato a me sopra io sotto e lui sopra la casa a Palau a Palau in Sardegna io poi la rinunciai perché se no mi viene più in Sardegna ha dato i soldi che era all'inizio proprio e lui voleva giocare perché doveva fare determinate presenze perché se no non prendeva l'appartamento aveva avuto già il crociato rotto mancavano le partite che lui ci stava pieno pieno dentro e disse guarda che tu non puoi giocare perché oltre che ti rirompi tutto poi non dai cosa alla squadra lui siccome gli era un pivello come allenatore abbiamo quasi la stessa età insomma allora lui fa la mossa di mettere Mazzari altri due che erano i capi stipi di questa squadra che avevano creato il problema perché parlando con tutti se era una squadra forte il problema deve stare all'interno non può essere che sta e si fuori quei due e fece i soldi Frau che ha fatto quella carriera lì aveva 16 anni e ora mi dimentico l'altro che ha fatto una carriera che ancora fa il secondo in Brasile insieme all'allenatore ex Cagliari la fortuna è stata i tre risultati consecutivi i tre vittori ci vorrei anche fortuna in queste cose e le cose sono andate bene e gli altri si sono allineati poi e andò abbastanza bene la prima uscita anche però ero rispettato tanto che non volevo più tornare indietro invece l'anno dopo si ritornò a casa ritornando sull'argomento sì perché è interessante poi la sua domanda e poi attinente anche all'attenzione pedagogica che si ha oggi nel gioco del calcio voglio tornare un attimo sulla battuta sul muretto allora quello il muretto vero è quello del vicolo il muretto che è all'interno dello stadio è un muretto diverso per quale motivo perché noi ci possiamo mettere davanti al muro tutti quanti noi dopo un anno impariamo tutti però quella è un'abilità chiusa una closet skill perché non c'è l'avversario non c'è niente non c'è quell'imprevedibilità che al contrario ti dava il muro del vicolo è quella un'abilità aperta il gioco del calcio è un'abilità aperta l'open skill questa è la differenza quindi mia nonna può fare il muro dello stadio ma mia nonna non può giocare al vicolo perché mia nonna non può giocare a calcio ma può imparare una qualunque tipologia di tecnica d'accordo è importantissima questa cosa perché se no poi si crea confusione su questo fermo restando che il muro è un'abilità tecnica che anche allo stadio va fatta ma va presa come una stazione delle stazioni che loro fanno tutto qui ma io il muretto l'avevo preso nel vicolo l'avevo preso non sapevo neanche il discorso esatto esatto per quanto per rispondere a te sull'atteggiamento degli istruttori ovviamente è cambiato anche il modo di interagire ma semplicemente perché adesso il calcio lo fanno tutti non lo fa più prima lo si faceva parliamoci chiaramente l'allenatore sapeva benissimo in paese chi era bravo andava nei vicoli lo prendeva lo portava a giocare al capo sportivo quindi la squadra era formata non c'era il bambino il ragazzo che non sapeva giocare a calcio ora la scuola calcio è aperta a tutti per fortuna perché il calcio è un diritto di tutti poterlo praticare all'interno di un prato insomma la gioia dei bambini poi ci sarà tempo per fare scremature e quant'altro quindi a questo punto l'interazione è diversa quindi si preferisce come dire un'interazione pedagogica quella che noi amiamo chiamare pedagogia attiva per quale motivo? perché anche qui c'è stato come dire l'intervento di studio all'interno dei centri federali per quale motivo? perché se ormai è cambiato tutto prima non si faceva ora sì non è che prima si sbagliava e ora si indovina è soltanto cambiato il mondo è cambiato la vita la società tutto qui quindi è cambiato anche l'approccio del gioco del calcio quindi anche degli istruttori come dicevi tu c'è un intervento diverso l'intervento è questo allora se io dico al ragazzo che sta giocando a calcio e dico tu ti demore qui devi andare lì devi calciare così io sto dando degli ordini e lui sta seguendo degli ordini quindi lui non sarà mai un giocatore che pensa ma è un giocatore che segue al contrario oggi io lo devo indurre a pensare a fare come? dicendo per esempio nell'attività di formazione non negli adulti nell'attività di formazione quindi dicendo facendolo sbagliare dicendo perché secondo te hai sbagliato portandolo a capire perché ha sbagliato ci metto più tempo però in questo caso lui razionalizza il movimento lo fa proprio perché ci ragiona ok? ed è diverso questo nasce in Belgio nasce in Germania nasce in Francia a Claire Fontaine e hanno determinato una sorta di campioni che noi ancora non determiniamo ma non era la soluzione questa era solo un modo di rispondere questo qui si faceva prima? no si anche prima si si dopo siamo tornati io li facevo sbagliare e gli dicevo perché ma non solo io anche altri adesso non c'è più questa cosa adesso c'è soltanto si mettono in campo stavamo parlando prima si mettono in campo un istruttore con 40 ragazzini Bucco Cantabambini almeno 10-11 un rapporto deve essere federale perché so perché me ne occupo deve essere 1-10 1-12 1-15 massimo ma nelle categorie più grandi ma raramente 1-10 1-12 quelli che hanno un rapporto 1-40 stanno facendo una cosa non consentita dal regolamento il problema lo sa dove nasce nasce tutto io dico sempre che nasce tutto dalla testa allora hai visto mai i presidenti quando o gli allenatori quando vengono presentati la prima volta un presidente lo presentano e qualcuno fa sempre qualche domanda ma il settore giovanile è la prima cosa che noi dobbiamo fare noi dobbiamo il settore giovanile capito un allenatore guarderò tutte le partite del settore giovanile per vedere se c'è qualche ragazzo pronto non avrebbero niente nessuno lo fa non lo fa nessuno te lo dico io per esperienza per esperienza ci credo Fabio allora ripeto l'argomento è interessante quello che tu hai detto dire a un giocatore tu devi tu devi tu devi quello esegue degli ordini e non gli impagno diciamo non si abito a ragionare con la propria testa questa tua affermazione benché diciamo mediamente condivisibile anche diciamo lodevole è un qualcosa che viene detta in base al buonsenso mi spiego meglio ci sono delle persone che nascono per fare una cosa e se nascono per fare quella cosa devono fare quella cosa e la fanno in maniera eccellente se li metti a fare un'altra cosa non va bene facciamo un esempio che non ha a che fare col mondo del calcio se io metto una persona ambiziosa a inserire fatture quello si rompe le scatole se io invece prendo una persona che è stata abituata fin da quando era piccolo perché mamma e papà gli dicono stai tranquillo pensa al posto sicuro non ti metti gridi nella testa quindi è nato tarpato e io gli dico tesoro adesso puoi spaziare fai quello che vuole il lavoro quello si blocca mentre se io gli dico fai questo fai questo fai questo quello è felice perché è abituato fin da piccolo a prendere gli ordini allora quello che io noto nel mondo dello sport anche ad altissimi livelli è che la è stata prima lui aveva una dote un talento ok se ce l'hai bene ma se non ce l'hai siamo così sicuri che un allenatore sa razionalmente individuare come comunicare con il giocatore oppure è lasciato all'estero io vedo che è lasciato assolutamente all'estero facciamo un esempio banale dietro un gesto sportivo c'è sia la parte tecnica cioè come io colpisco la palla e benché la palla è tonda sappiamo che si viene colpita in una maniera un effetto in un'altra un'altra e poi c'è la componente psicologica che determina la prestazione finale un esempio su tutto il rigore in una partita decisiva lo deve giocare secondo voi chi li tira meglio oppure chi li tira meglio in condizioni di stress secondo voi Djokovic che l'altro giorno ha perso ha perso perché era meno forte o perché Djokovic avendo tutto da perdere e l'altro aveva solo da guadagnare quell'altro ha giocato sereno e lui ha giocato contratto Baggio in quel famoso rigore non ha preso lo specchio e se ne tira mille riprende lo specchio un rigore lo deve tirare chi psicologicamente sa reggere quell'evento non necessariamente chi fa il gesto ok quindi quello che io noto è che in campo sportivo anche altiveri la comunicazione non il contenuto che c'è dentro perché io non ne capisco niente di tattiche zone uomo lasciamo stare quello ma è lasciato all'abilità di quello un esempio per dare anche un po' di colore alla cosa quando c'è stata recentemente quella serie televisiva su Totti hanno fatto vedere come Spalletti ha gestito Totti io non sono niente nel calcio rispetto a Spalletti se no non stavo qua e prendevo i milioni che prendeva lui ma se io fossi arrivato a Roma con Totti non capendo niente di calcio gli avrei fatto come si chiama un circuito comunicativo chiuso avrei detto arrivando a Roma io qui sono nella casa dei Totti chi meglio dei Totti si saprà gestire chi meglio di Totti saprà quanto e come stare in campo io mi affido a lui a quel punto che cosa faceva lui che se Totti voleva giocare 90 minuti e li giocava e giocava male il tifoso chi se la prendeva? è quello che avrebbe fatto mister Settiglio poi tornando a Baggio quale fu quell'allenatore che quando ha ripreso Baggio dopo che si era fatto mai l'ha fatto riesplodere Mazzone che gli ha detto fai tu ci sono delle persone che devono essere degli ottimi esecutori quindi devi dire fai così fai così fai così se prendi un Baggio un Del Piero Zico Maradona gli puoi dire fai così fai così fai così gli devi dire fai tu chi meglio di te Mazzone ha conquistato Baggio ha conquistato Baggio per il cane c'era il cane c'era il cane lì hai detto ma di chi è quel cane non voglio il cane il cane di Baggio allora può stare Baggio stava lì io parlavo nella formazione giovanile non parlavo ovviamente di alti livelli è prettamente così anche cambiano proprio le dinamiche l'abbiamo visto per esempio con Conte l'Inter con Conte l'Inter senza Conte è cambiata radicalmente esatto allora la comunicazione ormai l'allenatore è 360 gradi dietro probabilmente ha uno staff che noi insomma che ovviamente tratta sì sì c'è sulla comunicazione sul nell'era moderna nell'era moderna sì quindi insomma è tutto ma che l'identi c'è questa cosa? beh non sono d'accordo dicevi? non sono d'accordo su che l'immagine mia me la deve andare a gestire in conferenza stampa eh lo so una cosa sì 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 ha detto sì poi molti calciatori molti allenatori hanno fatto anche la fortuna di molti calciatori è tipo non so Zambrotta che è stato spostato è diventato Pirlo che è stato spostato quindi alla fine l'allenatore va anche lodato a volte perché anche molto intuitivo bisogna essere fortunati ecco essere capaci e fortunati parliamo quindi di gestione Giancarlo di gestione di giocatori tu ne hai gesti diversi difficili allora tenendo presente che hai abbiamo fatto abbiamo dato il segno di D'Amico di Conti abbiamo ricordato questi personaggi ma poi tu hai seguito anche il lancio di Altobelli di Andrea Carnevale in primissima persona hai fatto esplodere Mario Faccenda Roberto Policano poi ce ne sono alcuni che non sono esplosi come diciamo le quinte Drago il centravanti che però ha fatto cinque primavere hai gestito i giocatori difficili uno a caso Gianfranco Mannarelli che tutti conoscono una latina che tu l'hai portato ma io parlo di Faccenda io vado in ritiro con il Latina e Faccenda non era convocato c'era Lorenzi come prima ha detto Presidente ma lasci fuori questo dice no ma dice che sta male c'è la bubalgia ma non c'aveva la bubalgia lui stava male perché ti ricordi che tipo che era lui tipo particolare in quel periodo c'era Gigi Riva che aveva la bubalgia allora si parlava della bubalgia come quando i primi menischi parlavano tutti dei menischi io gli feci il lavaggio del cervello allenavo io l'ho allenato io per dieci giorni tu eri il secondo allenatore il secondo di Trebbiciani sì mi andava facendo e basta entro là stavo solo in più io non è che mi faceva lavorare stavo là viene questo importante che me la vado dalle scatole come si faceva con il secondo prima oggi si fanno lavorare i secondi e Mario Faccenda mi parlava che aveva problemi lo sai ha avuto tanti problemi Mario e questo la bubalgia è sparita in dieci giorni ma non perché perché ho stato io facevo fare il tipo di allenamento che faceva Riva perché usciva sul giornale tutti i giorni come si allenava io non capivo niente dei calci all'inizio stavo così ma chi è ne so di cura la bubalgia e vedevo il primo giorno saltelli così il secondo giorno e stretching in quel modo io facevo quel tipo però parlavo siccome questi partivano montagna ci mettono due ore e mezzo tre ore poi si fermavano a mangiare pure il caselluccio e si fermavano a mangiare su allora c'avevi il tempo per poter parlare si parlava con discussioni un po' lunghe è stato un punto di riferimento della Fiorentina poi Mario Faccena l'ho sentito l'altra sera mi chiamano sempre esso invece tra i giocatori che hai avuto parliamo di Mannarelli veniva dalla primavera della Roma aveva vinto eccetera e poi con te comunque ha raggiunto il massimo 27 gol fu bomber dei bomber perché è una di quelle giornate che penso è rimasta nel cuore quella che anno era era il Giancarlo vabbè era il passaggio in C2 sì la vittoria in C2 a Mondragone c'era in quella partita e aspetta te lo dico subito me lo ero segnato 86 mi sembra 86 me lo sono segnato 11 maggio del 1986 la promozione C2 è ottenuta a Mondragone che tu dichiari poi in una in una conferenza la ricordo come se fosse oggi quella era una grandissima squadra con gente che amava quella maglia e che aveva un senso di appartenenza perché questo anche il senso di appartenenza Fabio nel mondo del calcio di oggi non è più quello di prima le bagnere sono poche e il senso di appartenenza quasi non esiste dobbiamo dirlo essere duri e dirlo in merito alla data dell'86 mi fa piacere che la cura data perché è la data fino a quando io capivo capivo mi interessavo di calcio perché è stato l'anno in cui Zico sbagliò il rigore con la Francia nei mondiali del Messico e io lì ho smesso di vedere il calcio perché Zico era il mio idolo infatti nella partita dell'82 Brasil-Italia ero combattutissimo e quando vedi la maglia strappata di Zico un pochettino avrei voluto che fosse stato il rigore però vabbè al di là di questo e l'appartenenza è banale rispondere abbastanza semplice rispondere a questa domanda io mi ricordo che quando seguivo io il calcio perché adesso non mi prende più il calcio prima c'erano due stranieri per squadra adesso sfido io a pronuncia i nomi dei giocatori sono dei giocatori che hanno una bandiera piuttosto che un'altra i giocatori Baggio Del Piero Maldini l'appartenenza è quello ecco perché io ho ammirato tantissimo Totti per le emozioni per ritornare ai concetti che gli dava la Roma ha rinunciato a miliardi a milioni di euro per le emozioni perché a quei livelli lì contano le emozioni l'appartenenza io mi immagino la difficoltà che ha avuto nell'abbandonare il calcio perché sono emozioni sentivo prima manca la domenica provate a pensare quando si spengono i riflettori a quei livelli se sempre è stata nella stessa città se Dio in terra non è facile l'appartenenza l'appartenenza è data da da una squadra che bene o male è quella io mi ricordo ancora Zoff Gentili Caprini Oriali Collevati Cirea cioè erano adesso adesso è un business molto più potente di prima d'accordissimo perché spesso vincono purtroppo vince il Dio Denaro Giancarlo sei stato sempre molto particolare sei stato bravo performante nella gestione della squadra hai creato sempre la famosa chimica all'interno dello spogliatoio 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 anche fatti di giocatori dal carattere variopinto che tattica usavi l'appartenenza l'appartenenza in un altro modo perché io quando ho iniziato ad allenare in Latina i certi giocatori in Latina prendevo dei calciatori che venivano da fuori gli facevo vedere l'importanza che era indossare la maglia della Latina anche se non era importante e che non è loro c'è gente che ha giocato ha giocato quello veniva da Torino però gli facevo vedere gli facevo credere in tante cose vogliamo raccontare quell'aneddoto di quella famosa signora che poi che portai allora quell'anno lì io presi no il secondo anno presi la squadra e litigai col vicepresidente dopo la prima giornata di campionato e me ne andai gli lanciai il motorino io ero un tipo particolare gli lanciai il motorino per difendere i calciatori perché lui prima di una partita della prima partita di campionato si portò a casa 5-6 giocatori che fece fare 4-5 di mattina ma io mi fido perché tu sei vicepresidente e tu me li fai stavere 4-5 di mattina con le amiche la figlia le amiche se parlavano giocate a carte parlavano di queste cose e gli dici che sto fatto qui con loro e andai via dalla Latina quando rientrai trovai una squadra quella era una squadra che l'avevamo formata per vincere il campionato all'anno del Palermo che vinse il Palermo quell'anno dovevamo andare in ciò il Palermo e la Latina come qua perché poi l'abbiamo dimostrato dopo io presi la squadra a 4 punti a 2 giornate dalla fine che ci ero andata era spacciata io non sapevo che inventarmi ma veramente ho fatto l'allenamento l'anno di Dodo e Garitano bravo gente come Dodo e Garitano che non si leva tenere il pallone tra i piedi io mi dovevo appoggiare per forza Mannarelli Garitano Dodo questa gente qui Nipri questa gente qui i tifosi che contestavano sulla tribuna era peggio non potevi chiudere lo spogliato non potevi chiudere lo stadio perché la gente si arrabbiava di più perché dice non c'era e io mi inventai di una maga che lui mi portò a parlare con questa signora che era sta maga io parlai con questa maga me l'ho dimenticato no io no io ce l'ho sempre ho portato sempre per sempre vado a parlare con questa in televisione c'era una signora che faceva no no faceva no ma sai allora io presi ecco io presi l'elenco di tutti i calciatori e gli disse mi ricordo un fatto particolare che poi ha giocato Piero Vignoli ha giocato in serie a Cagliari con la Roma hai fatto l'incontro tu con la maga e gli ha detto guarda questo Piero Vignoli è fidanzato si deve spostare fra tre mesi è fidanzato con un ispettore di polizia Mannarelli lì che ha spesso con la moglie per dire e Dodo ha questo problema che non vuole guidare la macchina in città questo quando è andato lì gli dice ma tu c'hai io mi ricordo che Piero Vignoli è svenuto gli dice ma capito dice ma tu c'hai una moglie che porta la divisa lui sì ma ti devi sposare per tre quattro sì ma come fa a saperlo capito tutte queste cose ma ho riuscito da quella allora che ha fatto lei mi disse una cosa importante davanti ai giocatori mi dovete comprare il biglietto e io non entro allo stadio giro intorno allo stadio tutta la partita voi vincerete 2 a 0 domani vincevamo 2 a 0 e lei girava intorno allo stadio e diceva guarda qui dalla macchina e diceva guarda questa e riuscì a sbloccare quella squadra quella squadra non ha perso più ha fatto i migliori punti nel giro di ritorno in momenti si infidiamo anche per il fattore per le off ma delle cose che nel calcio i giocatori sono bambini a Sassari è la stessa cosa io a Sassari ti metto depresso il fatto di a Sassari pure a Sassari la prima cosa che piace io ho comprato il libricino che parlava di Sassari e l'ho portato al campo pure gli dissi guarda io devo vedere la città perché la città è bella ma voi siete stati io sono da un mese io sono da due e beh guardate che la città 8.000-9.000 spettatori quando alline in latina è allenato in latina poi andai anche in Brasile non c'è problema è una di quelle carriere perché molte volte è più difficile soprattutto nel calcio allenare in serie C Giancarlo comunque avrebbe avuto le potenzialità per arrivare anche ai massimi livelli volevi fare una riflessione prima allora volevo dire che questo questo aneddoto raccontato simpaticissimo e mi rafforza ancora di più quello che tu hai detto le doti naturali in realtà è un processo comunicativo che nel suo caso è stato fatto diciamo così costruito no no così però ha una logica potente perché non esiste la realtà esiste la realtà percepita cioè non conta quello che è ma quello che io penso che io sia e con questa diciamo sketch con questo gioco ok li ha influenzati in tal modo ecco perché io dico c'è il gesto atletico ma c'è anche l'elemento psicologico quando una squadra vince tutto tutto e l'anno dopo non vince niente ma sono diventati tutti brocchi il pallone è sempre quello e il problema è che se non c'è un potente lavoro per esempio il grosso aspetto che è nel mondo del calcio ma nel mondo di tutto lo sport è che fa molto figo per gli allenatori per i presidenti ma anche proprio per gli intervistati stessi giocatori che hanno vinto che ne so un campionato hanno vinto un evento importante e pensando ma perché sono stati influenzati in tal modo a pensare la prima risposta che danno è sì sì ma noi siamo già proiettati al prossimo risultato in questa maniera non si vive mai il presente è uno degli elementi fondamentali della motivazione è anche goderti il presente cioè hai giocato hai vinto adesso godi fai bisbocce per tre giorni adesso non pensare invece giochi hai vinto pensiamo a domani l'esempio lampante sono i vinci così non voglio fare esempio sul calcio i cinesi che quando fanno una manifestazione non hanno emozioni medaglia d'oro impassibile loro sono abituati tutun tutun cioè non vivono il presente quindi se non godi se non giudici del momento è anche questo è un elemento importante quindi io fossi allenatore di calcio avete vinto appena settimana fate tutto quello non avreste mai fatto stop poi si riparte allora spazio alla regia poi torneremo con Giancarlo Sibiglia i nostri ospiti una domanda di Rino Sortino di Davide Arimaldi della redazione per l'ospite d'onore di oggi che è il mister Sibiglia ciao sono Armando esperto di telecomunicazioni da circa 20 anni oggi in Italia il 99% delle imprese dei liberi professionisti è a rischio di blocco dell'attività a causa del fatto che le linee telefoniche e internet sono appesi a un filo nel vero senso della parola rischiando così di perdere soldi ogni volta che hanno un guasto alle linee telefoniche ad internet oppure al loro centralino ma tu ha mai calcolato quanto ti costa stare fermo con i tuoi dipendenti il mancato lavoro durante i giorni di guasto quante scadenze non puoi rispettare pagamenti che non puoi fare per non parlare poi dei post che non puoi incassare la soluzione Top Zero l'unica soluzione di telefonia zero problemi mentre gli altri si concentrano a risolverti i problemi noi semplicemente evitiamo che si creino richiedi subito una consulenza gratuita clicca sul bottone che trovi in questa pagina e in 10 minuti ti diciamo se Top Zero fa il caso tuo e in 10 minuti Grazie a tutti. 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 La seconda domanda è che tra i tanti giocatori che lui ha avuto ce ne sono stati diversi che poi hanno militato in alta categoria. Quindi dimostra la dimostrazione del fuggito vivaio qui dell'agropuntino. Ecco, oggi mi domando, come mai non ci saranno dei giorni altrettanto validi che possono ambire ad arrivare a un livello superiore? Bene, ringraziamo le domande di Davide Arimaldi della redazione e di Rino Sortino di Latina Flesce. Allora, come ti paragoni, come ti definisci, tu chiedi Davide Arimaldi, psicologo dello sport, educatore, allenatore? Ma io spero di essere stato tutto questo perché per fare un allenatore completo, però deve sempre giudicare gli altri, deve avere tutte queste caratteristiche. No, esistono in mente nostra perché sappiamo già, è inutile che la formazione, domenica prossima vediamo, si cambia, invece magari uno già c'è pronta, ma magari non la puoi fare perché c'è un infortunio, una febbre durante la settimana. E come hai trattato i panchinari? Ai panchinari, quando è possibile di creare più partite amichevoli giovedì, di far giocare loro magari prima e fargli capire che magari se uno sostituiva Mannarelli, in quel momento Mannarelli non era sostituibile perché in quel momento era uno che faceva tutte le domeniche e lui... Non creava illusione, false illusioni quindi? Ma no, non conviene mai, bisogna dire sempre la verità, almeno cercare di dire la verità al calciatore. Che poi i ragazzi non sembrano, sono parecchi, sono intelligenti, prima erano meno, magari cercavi da girare. Dai, oggi non giochi, non fai niente, poi ti manda a casa due giorni, tranquillo, magari ti rilassi, stai bene, rientri in forma e piano piano, gli andavi quattro giorni. Sciarpa l'ho mandato sette giorni in montagna, a Norma con uno, che si è ingrassato cinque chili. Un ex giocatore della Lazio, formidabile, che aveva giocato con la Lazio in Serie B. Quello aveva problemi proprio grandi. Fortissimo potenzialmente. Questo venne qui con il Maserati, una sera venne a Borgo Sabotino e scambiò il Maserati con la moto con uno e avevano capito subito che era... Potenzialità incredibile, aveva debuttato a 17 anni in Serie B, aveva giocato con la Lazio, con la Lazio, con il Nazionale Under 21. Metteva il turbo su quella fascia laterale. Rino Sortino, tra quelli che hai avuto, c'è stato qualcuno al quale avevi già predestinato un futuro da Serie A? Vabbè, all'inizio, Vincenzo D'Amico e Bruno Conti, avere questi due nella stessa squadretta, si vedeva, non gli ho insegnato niente, si vedeva che erano due bambini fuori dal normale. Tant'è vero che hanno fatto la carriera... Fuori dal normale si vede subito? Sì, è difficile vedere quelli che possano arrivare, io quello che dico agli allenatori quando faccio il direttore tecnico, è facile vedere un D'Amico, un Bruno Conti, un Baggio, anche lì, è difficile vedere che gioca un Pietrantoni in Serie C e in Serie B, che tutti dicevano, un Policano, che Policano me lo dettero come il centro avanti, io lo spostavo a terzino sinistra e ho fatto la carriera sua, perché c'aveva la falcata, c'aveva spazio da andare in avanti. Lui portò in prima squadra un mio amico, veniva a scuola con me, che non aveva mai giocato a pallone, ma aveva fatto ginnastica artistica, Deprizio. Tu l'hai portato in prima squadra? È stata le soglie di esordire una domenica, poi dopo lui aveva altre idee, nel calcio, non era l'amore suo, c'era la ginnastica artistica, però aveva tutte le doti, stacco di testa, correva che sembrava una ballerina, correva bene bene, qui non c'era nessun difetto fisico. La domanda io al mister Sibilia, al contrario, se c'è stato un calciatore che aveva, come dire, pensava, lei pensava che avesse un futuro e invece poi è stata una grande delusione? Ce ne sono stati tanti, perché tanti c'è chi cresce prima, sia mentalmente che fisicamente, e chi cresce dopo. Tanto è vero, quello che dico sempre io, che il ragazzo, bisogna aspettarlo fino a 18-19 anni, perché non si sa mai... Uno su cui credeva proprio e invece... Ma ci sono stati tanti, i nomi non mi metto. Drago, ecco, Drago ha 16 anni, 1,88, 16 anni, 40 gol a stagione, anche se giocava 25 di testa, perché incontrava i bambini che erano così, e lui forza fisica, forza tu. Lui a 17 e un po' di meno, a 18 e ancora. Mannarelli, la sfortuna di Gianfranco Mannarelli è stata la morte del papà, perché il papà lo seguiva, lui era un tipo particolare, lo seguiva anche agli allenamenti. Questa persona prendeva il treno, andava a Roma, poi andava alle Tre Fontane, che lì la Roma-Rivaera si allenava alle Tre Fontane, Lidon se lo portò in prima squadra e lui andava presto a tutte queste cose. La morte del papà per lui è stato, è diventato, l'hanno messo ad abitare a Ostia, insieme a altri pazzi scatenati, e lui però ha fatto la carriera sua in cima, poteva far benissimo la Serie A. Vivaio Pontino, seconda domanda di... Vivaio Pontino? Come? Guarda, io mi ricordo una frase, non so se voi conoscete Fascetti, Eugenio Fascetti, che è stato quello che ha portato, l'allenatore che ha portato la Fulgorcavi in Serie C. Lui diceva, io pianterei le tende qui, perché qui ci sono i migliori giovani che ci stanno in Italia, perché sono razze miste nel Pontino, sono generazioni che vengono dalla Sicilia, dalla Sardegna. Lui dice, già il romano è sveglio, più gli dà il fisico del Veneto, il fisico del Sardo, adesso però sta a passare questo, perché ormai è una cosa diversa, è una cosa che adesso bisogna darle a mano a loro e alla federazione, che hanno fatto una grande cosa da quando c'era Presidente e anche il predecessore. La semplicità vince sempre chi è più semplice nelle tattiche, per esempio ritroviamo spesso ogni tanto il centravanti, con tu e i Mannarelli a Latina, il grande Latina, i Mannarelli e i Pioghi, Luca Pioghi veniva dalla Lazio, il centravanti classico è attaccante veloce. Poi alla fine vediamo che chi riesce è quello che vince, è quello che attua le cose più semplici delle regole del calcio. Il calcio è semplice, perché il calcio non bisogna ambientarsi niente, io sono d'accordissimo solo a livello psicologico, perché se uno è un terzino destro, io parlo ancora del calcio di prima, oppure calcio da destra, esterno basso a destra, io non lo posso mettere esterno alto a sinistra, il portiere deve stare in porta, l'attaccante c'entra una partita, che mi serve l'attaccante, si fanno male due, l'attaccante può fare il difensore, ma lo può fare mezz'ora, perché conosce le tecniche, le tattiche, ma c'è gente che si inventa, io non voglio parlare adesso, perché io sono arrabbiato nero con l'allenatore da Juventus, perché si sta inventando, è tornato con una testa diversa, secondo me, rispetto a quando è arrivato prima, è tornato con una voglia di fa fuori Ronaldo, di fa fuori Nett, di fa fuori paradisi, di fa fuori tutta questa gente, e la società gli sta andando dietro, contratto quadriennale, che non esiste nel calcio, non esiste mai, parlavi bene di soldi, quadriennale, a 9 milioni in anno, facciamosi conti di quello che è, e non dai, non dai, non dai, perché lui minaccia in continuazione, ma non è la minaccia che ti porta a fare dei risultati. Volevo fare una domanda in merito a una precedente domanda, quella del panchinaro, cioè c'è un'attenzione all'emotività del panchinaro, mi spiego meglio, ci sta il panchinaro titolare, cioè quello, almeno prima, cioè quello che sta in panchina, in panchina, in panchina, cioè un allenatore, quando la partita lo permette, quindi o un risultato certo, o un risultato certo al contrario, cioè presta attenzione al panchinaro affinché si senta sempre pronto o che abbia quantomeno l'illusione o la certezza che sta lì perché potrebbe essere utile non che sta lì e ci rimarrà sempre, cioè a volte si fa entrare un giocatore che non serve tanto per quella partita, ma che serve per lui, perché comunque sia mamma, papà, sono entrato in campo a dieci minuti? Cioè c'è questo attenzione oppure si sta a vince, cioè uno se ne frega di quell'aspetto lì? O almeno prima? No, no, ma io l'ho fatto pure io, ma io non sono d'accordo su questo, nel senso che, no, 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 capito, non sono d'accordo perché io vinco 3-0, faccio entrare il giocatore che magari è l'ultimo della cosa, perché io preferisco dire al giocatore, guarda, non mi servi, vai a giocare in un'altra parte, però i panchinarici debbono stare, oggi è più facile, che sono cinque cambi, quando allenavo io c'era un cambio dove stavo anche attento fino all'ottantanovesimo, se non erano in dieci, poi ce ne stavano due, era un po' meglio, però a me non mi è mai piaciuto prendere in giro un calciatore, non mi è mai piaciuto. Lo faceva con il cambio, con il vero cambio del campo? Lo faceva col vero cambio, perché quello mi poteva servire veramente. Quello che non aveva chance andavi per la strada tua, non gli crei false illusioni e non... No, è il famoso zuccherino che danno, questo è il famoso zuccherino, ma secondo me l'ha presa in giro, fa entrare in campo un ragazzo due minuti, una cosa... Conte faceva così. Allora... Ma Conte quando ce l'aveva, ecco vedi, perché Conte doveva diventare... Lui, tanti allenatori fanno l'errore che quello che sta facendo secondo me, perché poi alla lontana uno parla, ha sentito dire, all'Egri sta facendo quello, è arrivato lui, è arrivato il Dio intero, l'allenatore senza i calciatori, senza essere motivati bene, senza... Non fa niente, può avere i migliori... Oppure un allenatore non vince mai le partite lui, è difficile che le vinci. Contribuisce a non sbagliare, sbagliare il meno possibile, contribuisce insieme ai calciatori a vincere qualche partita. L'allenatore non vince il grande calciatore, la può vincere? No, ma... Allora, le partite no. Il ritorno di Latina Flesch chiede la percentuale dell'allenatore, l'impronta, quanto conta. La partita la vince il grande calciatore, la può vincere. I campionati li vincono l'allenatore insieme ai calciatori, che è il 50 e il 50, che deve sapere gestire tutto l'anno, i panchinari, deve gestire quelli bravi. Presidente. Ci stanno tante cose, il presidente, la stampa, il pubblico, le mogli dei calciatori, che sono tremendo. Credo che con questa affermazione finale abbia dipanato la materia, cioè, il grande calciatore può vincere la partita da solo, cioè, il colpo di genio, eccetera, e lì non c'entra l'allenatore, lì è il giocatore. Però giustamente, un campionato, si vince calciatori e allenatori, quindi diciamo, nella partita, l'evento singolo è il calciatore, fa quel colpo di Maradona. Però giustamente, guardiamo Mancini, insomma, con la nazionale, cioè, alla fine conta 50 e 50, perché è un allenatore che sbaglia, che la comunicazione si mette in urto, sbaglia tutto. Allora, l'argomento è piacevole, quindi noi andremo ad oltranza, ma terminiamo con, passeremo la palla alla regia, poi termineremo con degli omaggi, c'è il club, il Panathorn Club Latina, che darà il gagliardetto, con i valori della carta panatletica, a Giancarlo Sibiglia, faremo delle foto tutti insieme e chiuderemo così. Però, l'ultima domanda, io vorrei farne tante, vabbè, la maga, sì, la maga rimane storica, cinque generazioni di giovani, come sono cambiati i giovani, quelli di oggi, come sono rispetto a quelli di ieri? Ma tanto, ma lo sanno tutti, in tutte le cose, non soltanto nel calcio, nella scuola, il rispetto, il rispetto della persona, il rispetto, dice, noi diciamo sempre il fatto del, sull'autobus, che dà il posto magari a una donna incinta, o del posto così, una volta, era in tutti, l'educazione, l'educazione, e lì è mancata un po' la famiglia, perché, meno presente rispetto a prima. Sì, perché prima si parlava, per piacere, mi sposti la sedia, mamma grazie, adesso, è esposta questa sedia, che mi sposti, prima si tornava a casa, che se l'ha presa una nota a scuola, oppure alle tre non rientrare, sì, ecco, se la prende col professore, o con l'allenatore di calcio, infatti, Bruno Conti, infatti, la prima cosa che faceva Bruno Conti, quando diventano il responsabile del settore, i genitori fuori dal, da, 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 dalle palle del pallone. Dalle palle del pallone. Bene, grazie mister, avremo tante domande, io vorrei ricordare, Small Position Games, il secondo libro, di Giuseppe Pietrocini, anche, oltre che FIGC, anche del Pannano Club Latina, grazie Fabio Marcucci, grazie a voi, sarà presente spesso con noi, Arino Sortino, Davide Arimaldi, e chiuderemo con questo, scambio di omaggi, e naturalmente, questa, questi argomenti, avrei voluto proseguire all'oltranza, perché se no, sono sicuramente interessantissimi, saranno punto, punto e spunto, di, di qualcosa che approfondiremo poi a ottobre, attraverso una serata, organizzata sempre con la televisione, ma aperta anche agli altri, agli operatori del settore, con la collaborazione anche della FIGC. Grazie, alla prossima, e naturalmente spazio allo scambio, e alle foto. Per migliorare il tuo business, Conit, un mix di aziende, in una sola realtà. Le risorse umane di un'azienda, sono il bene principale del motore aziendale. Potresti avere la necessità di maggiori risorse, solo in alcuni momenti. Potresti aver bisogno di servizi a spot, di attrezzature tecniche, e di personale specializzato, già formato sulle norme in materia di salute e sicurezza, nei luoghi di lavoro, per la conduzione di carrelli elevatori, per il primo soccorso, e per l'antincendio. Per gli obblighi di sanificazione anti-covid, potresti avere la necessità di attrezzature, materiali e personale specializzato. Abbattere i costi fissi, e puntare su un reale risparmio di risorse, vuol dire concentrare ogni sforzo sul core business della tua struttura. Tante aziende associate in una sola sigla. CONIT. Competenza e dinamicità. Sempre in evoluzione, con le esigenze del mercato. La casa è un rifugio, un habitat che deve essere curato nei minimi particolari. Per seguirti dal progetto alla realizzazione, è nato ad Albano Laziale Design Ceramiche, le migliori proposte d'arredo per soddisfare ogni tuo desiderio. Presentate in uno showroom, dove la magia del design e le firme di qualità ti proiettano in una dimensione armoniosa. Design Ceramiche offre un servizio a 360 gradi, dalla consulenza, utile per conoscere le esigenze del cliente, al progetto d'arredo o di ristrutturazione. Una vasta scelta di marchi, consulenza tecnica, preventivi gratuiti, trasporto, montaggio e installazione. Ti aspettiamo per aiutarti a costruire la soluzione che hai sempre desiderato. Bene, chiudiamo questa serata in onore alla carriera di Giancarlo Sibiglia, mister storico dell'Atina Calcio e mister della Sardegna, perché è rimasto nel cuore dell'isola dei Sardi. Allora, la carta dei doveri dei genitori dello sport e carta dei diritti del ragazzo dello sport, e il nostro Giuseppe consegna ufficialmente la carta dei valori Panatron. La scelta della disciplina sportiva preferita aspetta ai miei figli, in totale autonomia e senza condizionamenti da parte mia. Leggo soltanto la prima. E questo è un messaggio per i genitori sicuramente importante. Anche il gagliardetto del Panatron, una carriera bella e grazie anche a Fabio Marcucci per l'intervento. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.